Buongiorno a tutti quanti, allora riaccomi ritornata con un nuovo video, sono qui per parlarvi del secondo anno di infermieristica. Non mi ricordo onestamente se in passato ho fatto video dedicati proprio al secondo anno di infermieristica, fatto sta che ho deciso anche qui di parlare in maniera un po' più pratica del secondo anno e insomma di far vedere un po' le materie che più o meno si studiano. Allora non starò sempre lì, ripeto, a dire preciso, 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 preciso tutte le varie materie perché comunque sia ogni ateneo diverso, ogni ateneo sviluppa un programma diverso e quindi vi darò proprio una spolverata generale ecco. Io il secondo anno l'ho iniziato con praticamente un mini esame di farmacologia che si chiamava da noi prova di calcolo. Io ricordo questa prova di calcolo fatta proprio subito così, a freddo, era se non mi sbaglio inizio settembre e poi ovviamente sono iniziate le lezioni. Cerciamo che durante il secondo anno si entra effettivamente dentro il mood proprio dell'infermieristica, si entra proprio dentro i meandri. Abbiamo fatto praticamente tutta la parte di assistenza in medicina specialistica e assistenza in chirurgia specialistica. Non ho fatto chissà quanti esami, diciamo così, però erano due esami base, diciamo così, suddivisi durante il primo semestre e poi l'altra parte che era l'approfondimento della prima parte fondamentalmente. Comunque ho fatto appunto tutta la parte sia clinica, oncologia, neurologia, apparato cardiovascolare, respiratorio, insomma tutta questa parte qua. Ho fatto anche materie un po' più specialistiche tipo pediatria, ginecologia ostetricia, tutte queste specialistiche qui, insomma. Diciamo che a livello di lezioni da seguire è stata abbastanza impegnativa perché se non mi sbaglio il secondo anno addirittura uscivamo anche alle 18. Io parlo sempre prima della pandemia ovviamente, quindi era ancora diciamo un anno accademico regolare, ecco, ok, non stravolto dalla didattica a distanza. Devo dire che è stata abbastanza tosta, abbastanza tosta perché io praticamente tra la fine del primo anno e il secondo anno io mi portavo dietro due materie del primo anno. Una l'ho passata subito praticamente a settembre e l'altra l'ho fatta, se non mi sbaglio, i primi di novembre, prima di iniziare il primo tirocinio. Perché infatti io tra fine novembre e dicembre, diciamo così, fino a prima delle vacanze di natalizie, sono stata in tirocinio. Al secondo anno ho fatto fondamentalmente tre tirocini. Il primo tirocinio l'ho fatto in una medicina generale, il secondo tirocinio l'ho fatto in un'area specialistica ginecologia chirurgica e lì sono anche andata in sala, ho visto delle laparoscopie. Il terzo tirocinio l'ho fatto in malattie infettive. A differenza dell'anno precedente io sono stata praticamente nel primo blocco di tirocinio, quindi io fondamentalmente a giugno del 2019 avevo già finito tirocinio. Oltre appunto alle materie, un po' più nello specifico di assistenza infermieristica in medicina e anche in chirurgia, avevo anche dei corsi elettivi. I corsi elettivi sono un po' dei corsi che voi potete scegliere, che sono un po' di approfondimento e gli servono fondamentalmente per i crediti. Le lezioni erano belle, belle, belle intense. Io ogni due per tre avevo esercitazioni, tirocinio, cioè veramente. Il secondo tirocinio è stato tra l'altro quello più lungo in assoluto che ho fatto. Lo dicono tutti che fondamentalmente il secondo anno è un anno molto ma molto tosto, che se si rimane indietro veramente si rischia poi di non passare subito al terzo anno e questo è un peccato veramente. Però sono stata brava, perché io a fine dell'anno successivo, quasi fine anno accademico, mi sono portata un esame solo dietro, che era quello in medicina infermieristica, una cosa del genere. Che però purtroppo ho dato a febbraio del 2020. Ancora non c'era la pandemia, ho dato orale, in presenza. La prima parte dell'esame, quindi durante il primo semestre, gli esami erano scritti, invece durante il secondo semestre gli esami sono stati sia scritti che orali. Quindi è stata la parte un po' più difficilina, diciamo così. Per quanto riguarda invece le esercitazioni, ho avuto anche quelle, proprio prima del tirocinio. E a fine anno, poi a settembre, per concludere l'anno accademico, ovviamente abbiamo fatto l'esame di tirocinio. Come procedure da seguire, ovviamente, secondo le checklist dell'Ateneo, io avevo l'inserimento di un CVP, l'inserimento di un sendino nasogastrico, la medicazione, se non mi sbaglio, del PIC, la medicazione di un centrale, l'intramuscolo. Io fondamentalmente avevo queste procedure qui. Ricordo in medicina, per esempio, di aver messo i cateteri venosi periferici, Tiago Canula. Non ne avevo messi tanti, però comunque facevo pratica lo stesso con i prelievi, robe così. Non ricordo di averne messi tantissimi. Fu avanti anche in ginecologia e in ginecologia chirurgica. È stato il mio secondo tirocinio, ne ho messi. Io ho fatto anche qualche intramuscolo, però devo dire che non ho per niente... Praticamente in tre anni avrò fatto tre intramuscolo. E ho imparato, cioè ho imparato. Ho usato un po' mamma come cavia, perché purtroppo doveva fare delle punture. Ovviamente il secondo anno è l'anno in cui fondamentalmente voi potete fare terapia. Iniziate a fare terapia, iniziate a capire, insomma si studia anche poi la farmacologia in maniera molto 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 più intensa, perché c'è di nuovo anche tendenzialmente un'altra parte di farmacologia, a meno che non l'abbiate fatta tutta 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 durante il primo anno. E si mette un po' in pratica, si mette un po' in pratica anche le diluizioni, la preparazione proprio della terapia, l'organizzazione che c'è in reparto, quindi non solo la parte igiene, assistenza proprio base, ma c'è anche la seconda parte, ovvero tutta la terapia. Il primo tirocinio ammetto che non mi era piaciuto praticamente per niente, per niente, diciamo che medicina proprio non è, per niente il mio ambiente, anche perché in quel mese lì avevo fatto più igiene che terapia fondamentalmente. Secondo tirocinio si faceva lo stesso il giroletti, però davo molta più terapia, per esempio gestivo molto di più anche pazienti post-chirurgici, cosa che per esempio non avevo mai fatto né visto. Anche se devo dire che la ginecologia chirurgica è un ambiente molto di nicchia, mi era piaciuto ma relativamente, nel senso sì, ok, mi piaceva, nulla di così tanto trascendentale. Il tirocinio che mi è piaciuto di più in assoluto è stato durante appunto il terzo periodo di tirocinio, ovvero quello in malattie infettive, voi direte, oh mio Dio. Io l'ho fatto intorno a maggio-giugno 2019, se non mi sbaglio. È stato un tirocinio bellissimo, ho avuto un assistente di tirocinio veramente favoloso, che ci ha guidato proprio me e un'altra mia compagna, perché lì eravamo in due. Devo dire che lì sono stata io fortunata, perché nessuno ovviamente aveva previsto il covid e la pandemia. Fondamentalmente io là ho imparato un po' tutta la fase della vestizione. Il reparto, secondo me, era gestito proprio molto ma molto bene, insomma. Poi non so, ecco, durante la pandemia che cosa sia successo, sicuramente ci sarà stato casino, ma come là dentro anche ovunque ovviamente. Allora avevano queste aree di filtro dove ti dovevi vestire, con i pazienti ovviamente isolati, c'erano i vari tipi di isolamento, che ne so, da contatto, droplet respiratorio, eccetera. E ovviamente noi avevamo questo uso appropriato dei dispositivi di protezione individuale. Ho visto tante cose, ho visto casi con tubercolosi, ho visto, insomma, non sto qua ad elencarveli tutti, ma è un tirocinio che veramente sia a livello umano soprattutto, ma anche a livello pratico e a livello di conoscenze mi ha dato tantissimo, tantissimissimissimo. È stato uno dei più belli che, insomma, che io abbia mai fatto. Ricordo anche di aver levato per la prima volta i miei punti. Vabbè, insomma, ci facevano cambiare, ci facevano cambiare i pic, i centrali, tutta la parte delle medicazioni, ho visto, la gestione di un port, per esempio, cosa che noi avevamo anche nelle procedure. Io ovviamente non l'avevo mai fatto, non l'avevo mai visto, no, però è stato un bel tirocinio ed è quello che ricordo proprio, insomma, proprio bene, bene, bene. Insieme ad altri tirocini, ovviamente, tra il primo e il terzo anno, quello in malattie infettive è quello che effettivamente poi mi ha dato tanto. È anche da dire che sono stata fortunata con l'assistente di tirocinio, assolutamente, perché mi è capitato un assistente di tirocinio molto paziente che ti spiegava tutto. Lui pretendeva, eh, perché era uno che ti faceva anche tutte le varie domandine, ti chiedeva le checklist delle procedure, cose del genere, però era giusto. Cioè, ci stava a volte le chiedeva anche in emergenza, però è stato veramente, veramente, veramente bello. Poi c'era una bella aria lì, era tutto ordinato, non so come dirvi. Si seguivano sempre le linee guida, insomma, ho un bellissimo, bellissimo ricordo di quel reparto pre-covid, perché so che post-covid, ovviamente, durante la pandemia, purtroppo è successo quello che è successo, insomma. Però ringrazio veramente tanto anche la differenza, per esempio, che può essere una banalità. Ad oggi la sappiamo un po' tutti, questa cosa, però chi non c'è mai stato effettivamente in ospedale o chi comunque non è dell'ambiente, anche banalmente la differenza tra una FFP2 e una chirurgica qual è, quale filtra in entrata, quale filtra in uscita. Io là veramente mi sono fatta, mi sono fatta le ossa, insomma. Avevo un po' un metodo di vestizione, svestizione, smaltimento rifiuti, eccetera, eccetera, eccetera. È stato veramente bello. Quindi questo è stato in generale il mio secondo anno. Io spero di avervi dato una rispolverata, di avervi dato fondamentalmente un'introduzione, insomma, a questo secondo anno, perché il secondo anno, vi dico una cosa, è quello decisivo. Se passate il secondo anno, il terzo anno è in discesa. Il secondo anno per tutti gli Atenei è quello più tosto, è quello dove dovete stare dietro a tutto, esami, appelli, pochi appelli, tante informazioni da prendere, tanto tirocinio, per esempio, perché il secondo anno io ho fatto veramente tanto, tanto, tanto tirocini, perché tre tirocini di un anno sono tanti. Ovviamente anche lì va un po' a fortuna, perché a me è andata bene, soprattutto per i reparti, anche se, oddio, bene non tanto, perché su tre tirocini uno me l'è piaciuto al secondo anno, però, insomma, comunque ho imparato ovunque da, in tutti e tre i tirocini, assolutamente. Quindi un consiglio mio è, mi raccomando, cercate di non rimanere indietro, perché io mi sono portata un esame grossissimo, che era assistenza in medicina specialistica, al terzo anno e l'ho dato a febbraio 2020. Ok, ce l'ho fatta perché mi sono lavorata con la prima sessione, assolutamente, però ho faticato al quadruplo. Come vi dico sempre, cercate di non sprecare gli appelli saltandoli, provate piuttosto. E altra cosa, appunto, studiate, portatevi dietro anche tutte le varie cose durante le nottate in tirocini, o se dovete stare lì a riscaldare la sedia, che tanto non dormite, studiate, cioè, piuttosto leggetevi gli appunti, portatevi avanti col programma, insomma, io mi ricordo che comunque anche di notte studiavo. In ogni tirocino ho questo ricordo veramente di aver studiato di notte, di giorno, di pomeriggio, prima di andare a fare notte. È importante, è importante perché vi permette di andare al terzo anno con un po' più di serenità, fondamentalmente. Io mi sono portata dal secondo anno fino al terzo un esame dietro, che era un esame grossissimo, grossissimo, dove avevo la parte sia clinica che di assistenza infermeristica. All'orale mi chiedevano tendenzialmente solo assistenza infermeristica, però comunque io dovevo avere tutta la base dietro clinica. È stata tosta, veramente tosta, veramente tosta. Insomma, questo qui è stato il mio secondo anno, io spero tantissimo che questo video vi sia interessato e che vi sia stato utile. Mi raccomando se avete qualsiasi domanda o me lo lasciate sotto qua nei commenti oppure mi scrivete direttamente in privato nelle direct, per esempio, anche di Instagram, se avete voglia, così vi lascio anche tutti i miei vari link, account, eccetera. E altra cosa, se volete proprio dei consigli proprio più sul personale, eccetera, c'è sempre la mia mia disposizione. Stiamo arrivando verso la fine di questa trilogia di video dedicati all'infermeristica, spero tanto che vi piacciono, spero tanto che vi siano d'ispirazione, soprattutto che vi siano anche poi utili effettivamente per affrontare l'anno, ecco. Mi raccomando quindi se vi è piaciuto questo video lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ci vediamo in un prossimo video sicuramente, io intanto vi mando tanti baci. Ciao!